Questo pomeriggio ospite la dottoressa Violante Laneri, che è rappresentante di Federpharma Piacenza. Buongiorno dottoressa e benvenuta su Radio Sound. Buongiorno a voi e grazie per avermi dato la possibilità di partecipare per conto della mia federazione. Allora, ci diamo un po' del tu, allentiamo, perché adesso dobbiamo parlare soprattutto delle farmacie, farmacie che stanno assumendo un ruolo sempre più importante per la salute, per la bellezza, insomma, e adesso entrano in gioco anche in un momento di difficoltà come quello che stiamo passando dopo il coronavirus, perché si sono accumulati 30-40 mila esami, visite che sono rimaste sospese appunto per il virus. In che modo le farmacie scendono in campo? Allora, intanto mi sento di dire che la farmacia in questo periodo c'è sempre stata, siamo sempre stati aperti, abbattenti aperti ad accogliere appunto il cittadino, con tutte le sue esigenze. Allora, la farmacia risponde a questa problematica, che è una grande problematica, dando dei servizi che ci sono sempre stati, ma che adesso più che mai diventano utili. La possibilità, ad esempio, di fare in farmacia un elettrocardiogramma, un ultercardiaco, un ulterpressorio, autoanalisi del sangue, quindi la valutazione dei vari parametri del sangue, la misurazione della pressione e tanti altri, che sono servizi molto importanti al giorno d'oggi e che, come appunto dicevi tu prima, in questo momento è difficile poter fare all'interno della struttura ospedaliera, proprio perché appunto serve evadere il pregresso di appuntamenti e di esami che sono stati, diciamo, sospesi ecco in questo periodo di lockdown. Beh, sono stati sospesi, gioco forza un po' per le problematiche delle strutture, poi è entrata comunque in campo anche la paura di avvicinarsi poi agli ospedali, da un certo punto di vista soprattutto per quelle che erano le patologie decisamente più gravi. Certo, assolutamente, motivo per cui la farmacia diventa ancora più importante, perché si sa, no? La farmacia è ovunque, è un servizio capillare e la persona si sente più sicura a scendere sotto casa, fare cinque passi e trovare una persona che lo ascolta, che lo consiglia e perché no? Magari fare un elettrocardiogramma. Aggiungo anche che questi esami, che sono esami medici specifici, vengono fatti da noi ma poi refertati da un medico specialista, quindi la refertazione avviene per conto di chirurghi, insomma comunque cardiologi che si occupano di refertare. Ecco, una curiosità, Violante, in alcune strutture dove ci sono locali sanitari idoni e si possono fare anche sedute fisioterapiche e anche incontrare i biologi nutrizionisti? Assolutamente sì, questo è un altro bel servizio che molti colleghi fanno anche in provincia appunto qua da noi, mettono a disposizione una nutrizionista una volta alla settimana, esattamente come un fisioterapista che avrà una sua cappella a pazienti in cui appunto il paziente si può recare, fare la sua seduta e uscire tranquillamente sempre all'interno della stessa farmacia. Un supporto veramente forte ancora dalle farmacie per tanti servizi che in questo momento potrebbero avere difficoltà di svolgimento a causa appunto dell'accumulo e del tempo che servirà per cercare di rimettersi in pari. Li abbiamo conosciuti grazie al contributo della dottoressa Violante Laneri che è stata con noi, rappresentante di Federpharma Piacenza, grazie. Grazie a te, grazie a te per l'ospitalità. Grazie a te, grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te.